vediamo insieme cosa possiamo trovare all'interno di rocket e come installarlo all'interno della confezione troverete il vostro rocket, il cavo usb e il gancio per poterlo installare su cool e passeggini dato che per il momento ho intenzione di installare rocket sulla cesta ho montato il mio gancio qui in una parte rigida essendo una cesta è molto morbida quindi questo è il posto adatto il mio rocket è perfettamente installato mi raccomando di posizionarlo sempre in verticale e vediamo come funziona basta premere questo bottoncino qui sopra e ricreerà perfettamente il movimento del dondolo guardate il coniglietto come vibra sta dondolando in maniera dolce la nostra colletta ciao 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 ciao